Ciao a tutti, io sono Antonio Buonocunto, ho 25 anni e sono nato a Napoli, precisamente a Torre del Greco. Lì ho iniziato la mia carriera artistica e ho cominciato con una scuola di teatro fino ai 18 anni, dove poi mi sono trasferito nella città dove attualmente vivo, che è Roma. Oltre al cinema e al teatro coltivo anche un'altra passione che è quella dello sport. Ho fatto quasi tutti gli sport possibili che ci siano, tra i classici come calcio, pallavolo, equitazione, nuoto agonistico, insomma ho sperimentato un po'. Sono alto un metro e 85 e questi sono i miei profili. La mia agenzia è la cantera management. Ci vediamo!